Amici del vaso di Pandora, benvenuti, ben ritrovati. Recessione, recessione e ancora recessione. È il mantra con cui è iniziato il 2023 e tutta la comunicazione, gli articoli, servizi televisivi del mainstream fanno riferimento esplicito o meno alla recessione. Parleremo di questo ma anche di molto altro oggi con Federico Marcon a cui do il benvenuto e il ben ritrovato. Ciao Carlo, ciao a tutti. Ricordo consulente finanziario indipendente osservatore di tematiche economiche. Allora partiamo subito proprio con l'argomento recessione che oggi fa molto molto scalpore diciamo, inquieta tutti. Federico cosa ci dici in merito? La Banca Mondiale i mesi scorsi tra l'altro parlava di crescita per il 2023, no? Sì, corretto. Sì, allora proprio per questo, infatti vale, introduciamo una cosa. Io in qualche intervista che avevamo fatto poco tempo fa avevo riportato proprio come la Banca Mondiale vedeva appunto, come dicevi te, le previsioni di crescita mondiale nel 2023, la prevedeva a un più 3%. E io già nell'intervista vecchia avevo detto, ok, sarebbe stata una bella sfida questa cosa, perché la situazione economica… Mi ricordo che eri molto perplesso. Esatto. Perplesso per poco gli ascoltatori possono andare a vedere anche le interviste dei mesi scorsi. Sì, perché comunque la situazione economica era quella che era e anche attualmente, cioè, vista la situazione mondiale, abbiamo la guerra in Ucraina, abbiamo l'aumento di tassi di interesse e, difatti, la Banca Mondiale cosa ha fatto? Ha rivisto in forte ribasso questo valore, perché è stato portato a un più 1,7%, ovviamente a causa… Praticamente la metà, insomma. Quasi la metà, esatto. E la cosa bella è che per il 2024, sempre la banca, ha detto Banca Mondiale, si prospetterà un più 2,7%, quindi nemmeno nel 2024 quel 3% di cui tanto si elogiavano per quest'anno. Quindi, adesso, aprendo una parentesi, per fare un attimo riflettere, questa cosa ci fa capire che comunque i vertici, quando danno delle previsioni, tra virgolette, mentono sapendo di mentire. Perché? Perché sanno già molto bene di quanto sarà la crescita effettiva, però cercano di, diciamo, far indorare la pillola e, perché pianificano già fin da subito, quando andare a modificare questi dati in corso d'opera. Sì, quindi praticamente non bisogna mai prendere seriamente le informazioni del mainstream, una ennesima conferma. Sì, sicuramente. Corretto. Comunque, vabbè, questa era una parentesi. Ok. Diciamo che, allora, io analizzerei comunque un paio di aree di interesse economico mondiale per capire questo discorso di recessione, recessione e recessione. Partirei con la Cina, ok? Perché comunque, a incidere sull'economia globale, l'attuale stato di istituto della Cina, che è alle prese con molteplici problemi, perché, ovviamente, gli ultimi anni, compreso il 2022, sono stati complicati per la crescita della Cina, dalla crisi dei settori immobiliari a tutti i continui lockdown, ovviamente frutto di questa rigidità della strategia cinese contro il coronavirus. Diciamo che se si riuscisse a normalizzare, o comunque quasi, l'economia cinese, questo potrebbe alleviare in modo significativo le interruzioni, diciamo, della catena di approvvigionamenti, per esempio, che ovviamente hanno contribuito a questo rapido aumento dell'inflazione delle merci, ma a livello globale. Poi, un'altra area interessante è il USA, perché comunque, oltre anche loro a tutte le situazioni che stanno affrontando, vediamo anche, per esempio, i titoli di Stato, perché i titoli di Stato, comunque, americani, da fine ottobre, all'incirca, stanno sperimentando un'elevata inversione della curva dei rendimenti. E questo, in passato, quando si viveva questa situazione qua, è sempre stato seguito da una recessione. Poi, vabbè, parliamo della nostra zona, quindi dell'Eurozona. L'interessante dell'Eurozona è l'indice PMI europeo, che non è altro che, possiamo chiamarlo, il principale indicatore sulle economie, detta semplicemente. E da luglio, all'incirca, vede i valori scesi sotto alla soglia di valore di 50. Questa soglia, praticamente, al di sopra di essa, di questa soglia, si ha una situazione economica con un inizio di crescita e poi via via sempre maggiore, mentre al di sotto di questa soglia di 50, si va a rilevare un rallentamento economico che risulta essere sempre crescente. Questa situazione in cui ci troviamo ha un che di strano, di allarme, perché è una situazione in cui non ci si vedeva da inizio 2021. Quindi, inizio 2021, piena terza andata di coronavirus. Ci sarebbe anche un'altra piccola parentesi, che è, diciamo, cosa sta facendo la BCE, visto che parliamo dell'Eurozona. Perché la BCE ha, diciamo, innalzato i tassi di interesse per le banche sui depositi. Cosa vuol dire e come funziona? In pratica, i depositi delle banche presso la BCE, ok, torneranno a pagare interessi. Il conto, poi, finale, però, va a gravare sugli stati dell'Eurozona, perché comunque le tassi dell'Eurozona dovrebbero ricevere utili dalle banche centrali. E invece questo impedirà la cosa. Adesso, quello che dico io è, questo può non sembrare una questione che riguarda, diciamo, le famiglie, le imprese, ma in realtà non è così. Perché comunque a pagare gli interessi alle banche, indirettamente, alla fine, è tutta la collettività. C'è poco da fare. E quindi è giusto così? Questa, dall'altro, è stata una delle domande molto belle che sono state sollevate da un docente di politica economica europeo presso la London School of Economies. Quindi è anche comunque una cosa che ha suscitato un mucche. In pratica, cosa sta succedendo? Alla fine di dicembre la BCE ha innalzato questo tasso di deposito al 2%, ok, alle banche commerciali che parcheggiano la liquidità presso la banca centrale. Quindi viene offerto un interesse praticamente privo di rischi. E l'obiettivo finale, qual è ovviamente? Quello di limitare il credito verso l'economia. Perché comunque quando la banca centrale punta a rallentare, a raffreddare l'economia, deve limitare in qualche modo la circolazione della moneta. La maggioranza della circolazione della moneta viene creata proprio attraverso il credito bancario. E quindi, se noi facciamo due conti, proprio alla mano, cioè non serve fare conti complessi. I conti della serva. Esatto, i conti della serva. Dal momento in cui le riserve in eccesso depositate dalle banche europee nella BCE si aggirano intorno ai 4.600 miliardi di euro per la fine del 2022. Diciamo che i tassi non salgono ulteriormente, che le riserve restano stabili. Le banche europee porterebbero a casa, senza alcun rischio, ben 92 miliardi di euro. Che se facciamo un attimo un conto, è una cifra che è pari al 0,75% del PIL dell'eurozona. Cioè, si tratta di una somma che viene sottratta alla collettività. Perché, al contrario di quello che si pensa e molte teorie cospirative dicono, la banca centrale è un ente di diritto pubblico, ok? Che, praticamente, sono obbligati a versare gli utili che realizzano nelle casse dello Stato. Ok? Quindi, per gli Stati europei, che vengano offerti maggiori interessi alle banche, significa ricevere 92 miliardi di euro in meno solo nel 2023. E, a parità di fattori, possiamo dire che è aumentare il deficit dello 0,75%. Cioè, poco da fare. Cioè, alla sola banca d'Italia, sempre facendo i conti della serva, aspetterebbero circa 12,7, all'incirca, miliardi. Sono soldi che potrebbero essere girati allo Stato italiano per far fronte a determinate cose, che invece andranno alle banche. Se ne risolverebbero di problemi, sicuramente, o si potrebbero affrontare molti problemi. Esatto. Mettiamo quello proprio di questi giorni, le accise, visto che è un tema che sta creando molta, molta insofferenza e probabilmente siamo solo agli inizi. Corretto. E infatti, cioè, questa cosa porterà un'elevata, diciamo, positività per le banche. Però, alla fine, alla banca non torna nulla di quello che è lo Stato. Infatti, adesso sto cercando un modo per toccarla leggera, ma non troppo. Praticamente, questa cosa si tratta di una mossa che va proprio ad aggravare gli stati, a tutti gli effetti, perché comunque questi proventi, c'è poco da fare, appartengono alla collettività. D'accordo? Poi, vabbè, chiediamo questa parentesi sulla BCE, perché se no potremmo stare qua a parlarne ore, in quanto si potrebbe parlare di tutte le alternative, tutti i loro protti, i loro contro, quindi si potrebbe parlare di ore, se no andiamo lunghi. Però, questa era un'informazione che potrebbe far riflettere sotto alcuni aspetti. Riprendendo il discorso, comunque, del 2023, a livello, comunque, di sede della situazione nel dettaglio, diciamo che si pronuncia un anno che sembra essere favorevole per alcune situazioni di mercato, per esempio, il segmento obbligazionario, perché, comunque, per quanto riguarda, per esempio, l'azionario, un rallentamento, diciamo, dell'aumento dei tassi di interesse, potrebbe rappresentare una svolta che andrebbe a favorire la crescita degli utili. L'aumento, invece, in questo caso, sarebbero le obbligazioni a goderne. Infatti, i momenti di debolezza, come questo, vanno considerati opportunità. Poi, un'altra cosa interessante, sarebbe quella di delineare tre possibili scenari, ok, a grandi linee, che si potrebbero, si valutano, insomma, per l'economia, ovviamente, valutandone l'impatto sulle principali asset class, perché, questo affare. Il primo scenario, secondo me, che comunque è anche interessante, sono tutte e tre interessanti, comunque è quello dell'inflazione persistente. Quindi, l'inflazione rimane ostinata, alta, la Fed, per esempio, si vedrebbe costretta ad aumentare ulteriormente i tassi e quindi porterebbe il tassi a un 6%, per esempio, e quindi il dollaro, in questo caso, si apprezzerebbe. Mentre, però, ovviamente, le azioni e le obbligazioni soffrirebbero del breve. Però, ovviamente, queste ultime avrebbero un rendimento intrinseco molto interessante, molto alto. Il secondo scenario è quello che solitamente viene chiamato, considerato atterraggio morbido, che, praticamente, in questo caso, la banca centrale riuscirebbe, diciamo, a far scendere l'inflazione senza impattare significativamente sull'economia reale. ecco, ovviamente, questo è il dollaro, si deprezzerebbe e le azioni globali avrebbero una ripresa. La terza situazione, diciamo, scenario, sarebbe quello della recessione globale, dove l'inflazione si rallenterebbe, però l'economia globale entrerebbe in una recessione elevatissima, la disoccupazione aumenterebbe tantissimo, per esempio, la Fed e le altre banche centrali dovrebbero investire e intervenire nella politica, ovviamente, dei tassi e iniziare di nuovo a stimolare l'economia e anche lì il dollaro si deprezzerebbe, i nazionali statunitensi e gli europei potrebbero soffrire ulteriormente a causa proprio di questa riduzione degli utili societari, perché comunque sono sempre società di effetti e il mercato obbligazionario diciamo invece si rafforzerebbe grazie al calo degli tassi interesse. Anche qui, come prima, ci vorrebbero, si potrebbe fare un discorso tecnico, ma non è la sede. Quali dei tre scenari quindi, secondo te Federico, tra inflazione persistente, ricapitoliamo, inflazione persistente, atterraggio morbido e recessione globale, quali vedi tu lo scenario più probabile quest'anno? Tutto qua sarà nella decisione che verrà presa dalle banche centrali, perché comunque, allora, io credo che la decisione sia già presa, perché come dicevamo prima, carte in tavola ci sono già. Diciamo che probabilmente le banche dovranno valutare, valuteranno, hanno già valutato bene, se gli converrà di più iniettare liquidità o fare riserva. Quindi, comunque, diciamo che si oscilla molto tra una recessione globale e un'inflazione persistente. Lo scenario di atterraggio morbido è complicato, nel senso che l'atterraggio morbido comunque costringerebbe a delle manovre economiche che non credo al 100% siano disposti a mettere in atto. Ecco, facciamola così. Quindi staremo a vedere cosa succederà. Quindi lo scenario potrebbe essere tra l'inflazione persistente e la recessione globale in pratica. Esatto, assolutamente. Poi, come ho detto, le prospettive non sembrano allettanti, cioè non lo sono e non lo sembrano. Quindi, anche qua, io direi di stare tutti con un occhio, come si dice, aperto. Poi, ovviamente, anche questo molto spesso scoraggia dagli investimenti. Queste sono le situazioni qua. Però, come ho già detto prima, è in queste situazioni dove si possono fare gli affari, tra virgolette, i cosiddetti quando si parla di affari. Nel momento in cui comunque il mondo ha paura è il momento in cui si trova ad avere maggiori opportunità di mercato. c'è poco da fare. E quindi, sì, staremo a vedere e ne riparleremo di questa cosa. Avremo occasione sicuramente di riparlarne. Senti, abbiamo visto quindi la Fed, la BCE e le altre banche come stanno reagendo a questa situazione? Allora, bella domanda. Diciamo che allora, le banche non tutte troppo bene, anzi, non troppo bene proprio, perché comunque soprattutto le grandi banche. Facciamo gli esempi, così trasferiamo bene. Allora, il primo esempio che potrei riportare è proprio quello della Banca Nazionale Svizzera che è una delle più grandi al mondo. Sfortunatamente ha appena registrato una perdita, la più grande perdita in 116 anni. C'è una notizia che avevamo tra l'altro ripreso alcune settimane fa in intervista con Armando Savini. C'è una notizia che naturalmente è passata sotto silenzio dal mainstream perché ovviamente non sono argomenti opportuni nella loro logica, però è una grande notizia. Assolutamente, cioè alla fine della Banca Nazionale Svizzera ha registrato una perta di 143 miliardi di dollari per l'anno finanziario 2022 quindi no, distante. Cioè ha perso circa 131 miliardi di franchi svizzeri quindi la loro valuta a causa però di cosa? Delle posizioni in valuta estera? E per tornare al discorso di prima questo cosa comporta? Comporterà il fatto che non effettuerà più i soliti pagamenti al governo svizzero e probabilmente anzi sicuramente anche i pagamenti agli azionisti ne risentiranno quindi è un insieme sempre alla fine che vengono giovate tra virgolette le banche e i governi dopo ne risentono sempre e poi vabbè ci sono anche altri casi un altro esempio se vogliamo riportare oltre a quello della Svizzera che adesso comunque è un esempio molto vicino a noi è un'altra grande banca la West Fargo che loro addirittura stanno cambiando radicalmente la loro attività immobiliare quindi quella legata ai mutui ai fidi a tutte queste cose qua infatti l'azienda offrirà mutui per le case solo ai clienti esistenti e che ritengono idonei ci metto le virgolette su idonei perché abbiamo già capito quindi che possono offrire garanzie su garanzia quindi la banca ovviamente come sempre praticamente non rischia nulla esatto e infatti hai notato addirittura la richiesta di voler abbandonare l'attività di corrispondenza quindi tutte quelle che vendevano mutui di società terze tutte le società terze che vendevano mutui basta questo ridurrà significativamente la sua operazione di servizio sui mutui perché si tradurrà tutto in un nuovo ciclo di licenziamenti è logico e la decisione continuerà e continuerà ovviamente a ridurre il rischio nel settore dei mutui e come avevo detto sempre tempo indietro in un'altra intervista le banche stanno diventando veri e propri negozi finanziari perché anche coi mutui non hanno più interesse hanno troppi rischi rischi di insolvenza tutte queste cose qua e questa è un'ennesima dimostrazione della cosa giustamente poi cioè West Fargo è vero scusami Federico è vero che nell'ultimissima parte del 2022 sono calati in maniera drastica le richieste di mutuo assolutamente cioè parliamo di un calo del 13,2% ma in brevissimo tempo sì nell'ultima settimana nell'ultima settimana cioè nell'ultima settimana dicembre questa cosa quali sono le spiegazioni proprio una cosa così dalla sera alla mattina un calo del 13% dalla sera alla mattina la risposta è sempre la stessa le banche come avevo già detto non vogliono far credito non gli interessa più non ci guadagnano niente sono pieni di rischio quindi cercano in tutti i modi di togliere questa cosa poi incentivate dal fatto che per esempio in Europa la BCE mette al 2% i depositi non viene più praticamente fatta circolare moneta quindi questo sicuramente riduce l'inflazione ma per tutti è solo ed esclusivamente passami il termine una mazzata cioè poco da fare perché queste situazioni ce ne sono molteplici ovviamente ricordiamoci che le banche stiamo parlando comunque di sistemi a riserva frazionaria ok quindi possono prestare soldi senza averli gli istituti di credito possono prestare soldi senza averli anche le banche centrali grazie tra l'altro della stampa artificiale del denaro il cosiddetto quantitative easing riescono a controllare i tassi di interesse quindi il costo del denaro e questo comporta cioè c'è poco da fare carlo questo comporta che quando questi istituti poi vanno in rovina o succede qualcosa per colpa loro ok sono sempre i clienti i contribuenti che pagano il conto ma lo pagano anche gli stessi dipendenti perché tanto alla fine come vediamo per la west fargo vengono licenziati quindi il ciclo gira e rigira resta sempre quello ricordo ecco potrebbero dire tante cose ma dopo andremo magari sui tecnicismi sarebbe sarebbe interessante ma magari non è questo il contesto però vediamo anche le feedback le relazioni dei nostri ascoltatori vedremo perché nell'eventualità si possono anche concepire magari delle puntate magari una rubrica di tipo proprio strettamente tecnico dipende dal grado di accoglienza che queste tematiche possono avere per farci capire appunto se possiamo creare anche dei contesti più tecnici magari una rubrica quindi se al pubblico interessa ben volentieri perché si possono fare anche delle rubriche o qualcosa dedicato per entrare magari più nel dettaglio e capire effettivamente cosa c'è dietro e quali sono i pro e i contro di varie situazioni che vengono instaurate anche in maniera forzosa ecco sì ok hai reso hai reso molto bene molto bene l'idea chi vuol capire capisce ma già già nell'introduzione quando abbiamo parlato della banca mondiale che praticamente ha rivisto a quasi la metà le stime di crescita come hai detto mentre non sapendo di mentire perché di sicuro non sono dilettanti allo sbaraglio e le cose le sanno le sanno le sanno bene quindi sempre di fidare dell'informazione che viene da tv giornali perché ovviamente sono la cassa di risonanza di queste centrali di queste centrali del potere direi che lo stato dell'arte è questo per ora noi ci riaggiorneremo sicuramente a breve per vedere anche gli sviluppi di tutte queste tematiche che abbiamo messo sul piatto oggi in questo primo nostro incontro del 2023 Federico Federico Marcon grazie grazie a te Carlo grazie a tutti quelli che seguono il vaso di Pandora grazie a presto a presto grazie a tutti voi amici ascoltatori grazie a tutti